Top Games, mentre scorrono le immagini della demo di PES 2019 in versione PC, 1080p, 60 fotogrammi al secondo, così ce lo vediamo per bene, vi dico le mie considerazioni, quelle di Italia Top Games, dunque, su questa demo. Allora, ci sono tante cose buone e qualcuna che invece non ci ha convinto fino in fondo. Allora, l'aspetto che più mi ha convinto molto, davvero, davvero, davvero molto, è la maggiore fluidità dell'azione, grazie soprattutto alla fisica del pallone, che rimbalza in maniera incredibilmente realistica, alle animazioni dei giocatori, molto più fluide, molto più naturali, anche se ancora qualche piccola cosa migliorabile c'è, ad esempio, quando un giocatore va verso il portiere che sta prendendo il pallone, l'animazione non è proprio fluidissima, però sono piccole cose. Piano piano, veramente, rispetto all'anno scorso, i passi in avanti, nella fluidità del gioco, nel tutto quello che è, come dire, il movimento, il movimento dell'azione, ripeto, sia per le animazioni dei giocatori e sia per la parla, molto importante anche dal punto di vista dei rimbalzi sui corpi dei giocatori e tutto quanto. Questo è l'aspetto che più mi ha convinto assolutamente di PES 2019. Il balzo in avanti di questo genere per il gameplay in un anno solo difficilmente l'avamo visto in passato in un videogame di calcio in assoluto. E quindi questo sicuramente è un aspetto molto, molto ben riuscito e a cui bisogna fare davvero i complimenti a Konami, perché davvero mi è piaciuto davvero tanto da questo punto di vista. Volti dei giocatori sempre bellissimi, questo è assolutamente nessun problema, sull'online ho fatto qualche partita, non ho avuto problemi, ma sappiamo che è agosto, adesso sappiamo che questa è la demo, non è il gioco completo e quindi su questo elemento rimaniamo in stand by, per così dire. Altro elemento che mi è piaciuto, i cambi veloci, sì effettivamente ripresi da FIFA assolutamente, però quando si copia bene, quando si copia qualcosa di positivo non è affatto sbagliato. Qui come vedete i replay, le maglie dei giocatori, davvero lavoro encomiabile e sono rimasto sorpreso anche per il fatto che i giocatori si riconoscono davvero bene anche nelle azioni, a differenza del passato dove durante la partita era un po' difficile vedere esattamente chi fossero i giocatori se non per il numero della maglia. Questo davvero ben riuscito, animazioni, grafica, migliorata. A proposito di grafica parliamo anche dei confronti tra le tre versioni, ho provato il gioco in tutte e tre le versioni. La versione che maggiormente è migliorata nel rapporto con le altre due è sicuramente con le Xbox One, l'anno scorso c'era un forte aliasing, era una versione molto molto più deludente. Quest'anno almeno la demo è assolutamente a livello delle altre. La versione PlayStation 4 è sempre un po' quella principale, ma come dire, la differenza con le altre si è un po' ridotta. La versione PC è migliorata. Io consiglio ai giocatori PC di giocare con telecamera ravvicinata, in tal modo i giocatori sono più grandi e sono molto più simili a quelli delle versioni console. La versione di default della telecamera a me non piaceva, infatti quello che state vedendo è una partita con la telecamera ravvicinata e così devo dire che le differenze con le versioni console sono minime. Certo, avendo una macchina abbastanza potente, con una buona scheda grafica, io speravo in qualcosa di più dalla versione PC, sono sincero, speravo che visti anche i requisiti consigliati aumentassero, ci fosse un gap in positivo per la versione PC e non una versione più o meno parificata. Però, come dire, finalmente mi sembra che quest'anno non ci siano gap negativi, è già un aspetto importante e chissà che in PES 2020 o 2021 o 2022 finalmente la versione PC si è ottimizzata per essere al top e superiore. In questo momento a me io non vedo grosse differenze rispetto alle altre e, come dire, va bene così, bene ma non benissimo, citando una famosa canzone. Allora, fino adesso ho detto tutto quello che mi ha convinto della demo, c'è qualcos'altro che, come dire, è da rivedere. Intanto le galoppate a centrocampo non mi piacciono molto, mi pare che a centrocampo il filtro della squadra d'avversaria e dell'intelligenza artificiale sia un po' bassa. Nell'online ho avuto modo di giocare poco, ho visto qualche sgaloppate in meno, ma, come dire, mi piacerebbe un centrocampo un pochino più robusto. Ogni tanto i tiri da fuori è un po' troppo semplice segnare, quindi mi auguro che anche da questo punto di vista la versione completa sistemi un po' questo aspetto. Le difese tra fuori aria e il limite dell'aria, spesso, soprattutto con giocatori di valore, si segna con una certa frequenza, un po' eccessiva, diciamo. E questo è un aspetto che spero che piano piano, con le patch Konami Sistemi, come, tanto questo è un aspetto che tanto faccio presente ogni anno, tutto l'aspetto dei menu, dei font, della grafica e tutto quanto è vecchio. È vecchio e non capisco perché Konami, anche ci sono in giro delle persone che gratuitamente hanno fatto dei, come dire, delle prove, come dire, delle prove grafiche fantastiche per Pest, perché non vengono prese in considerazione, perché davvero questo stile è veramente vetusto, per non dire arcaico, per non dire preistorico. Non capisco, non capisco perché Konami, da questo punto di vista, non si evolva come, appunto, come evolve il gameplay e lo evolve molto bene. Da questo punto di vista, secondo me, c'è ancora tantissimo da fare. E sì, qualche piccola miglioria è stata fatta, è stata fatta anche qualche miglioria per il sonoro, indubbiamente, ma secondo me, da questo punto di vista, si può fare molto di più. Invece ho apprezzato particolarmente l'arbitraggio, l'arbitraggio è molto più fiscale, molto più preciso, io almeno nelle partite che ho fatto in questi giorni l'ho trovato decisamente migliorato. Ho trovato migliorati i portieri, tante parate, decisamente, possono fare ancora di più, ma in generale io li ho trovati migliorati e, come dire, senza troppi problemi. Gli aggiornamenti delle rose le aspetteremo per il gioco completo il 30 agosto. Dunque, come dire, sono rassegnato per i menu e tutto l'aspetto, il resto della partita, quello è un aspetto su cui sono rassegnato. Molto, molto, molto soddisfatto dal gameplay, davvero tantissimo, a parte, appunto, i tiri da fuori aria con cui è leggermente troppo facile segnare. Se riusciranno a calibrare questo aspetto, io mi aspetto davvero molto da PES 2019 per una grande stagione. Speriamo, ecco, solo questo aspetto è quello che io ho trovato non troppo convincente nel gameplay. Per il resto, davvero, l'evoluzione, lo stacco dal precedente è stato molto più elevato rispetto a quello che io credevo. Quindi, davvero, davvero contento da questo punto di vista. Ripeto, i tiri da fuori aria un po' meno frequentemente sia facile segnare, davvero il gameplay nulla da dire. Bene, visto che la partita sta per finire, l'Inter, colmandata dall'allenatore virtuale, ha vinto 2-0. Però, aspetto tantissimo le vostre considerazioni. Sarebbe bello, questo è un mio augurio, che le considerazioni vengano fatte non dai pregiudizi positivi o negativi che si hanno nei confronti di PES, perché ho letto dei commenti assolutamente con tanti pregiudizi. Quindi, mi auguro che i commenti che leggerò qui sotto saranno invece basati sulla prova, sulla prova del gioco e su quelle che sono state le vostre considerazioni. Io ho detto le mie, sarei tanto davvero contento che gli oltre 1700 iscritti al canale, e spero che continueranno a salire, dicano la loro sulle mie considerazioni, così sarò ben lieto di rispondere a ciò che scrivete. Bene, grazie, buon PES a tutti, buon demo, tanto lo potete giocare tutti quanti oramai, non c'è bisogno di fare strane cose, account neozelandesi e tutto quanto. Ci riaggiorneremo sicuramente prima del 30 agosto per le novità che proporrà Konami, e vi ripeto, aspetto i vostri commenti numerosi qui sotto. Ciao e grazie!